Identificazione Homo Sapiens composto da elementi idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, calcio e ospo. Oh, perdonami, analizzare qualsiasi composto è una mia deformazione professionale. Io sono Sicibot e ti do il benvenuto nella hall del gruppo Sicit. Come puoi notare il livello tecnologico è altamente avanzato e non per vantarmi, ma io sono all'apice di questa piramide. Ma per realizzare il processo produttivo c'è bisogno di una mente umana e fortunatamente tu fai al caso nostro. Iscriviti al nostro canale